Pisano Music TV presenta il Baby Shower. Per le future mamma e papà una super novità. Rivolta anche a parenti, amici, e a chiunque ci contatterà. Un party emozionante ed esclusivo, tra i più coinvolgenti in tutta Italia. Da dedicare ad una nuova meravigliosa vita che sta per nascere. Vi presentiamo il Baby Shower. Una festa durante la quale si svela il sesso del nascituro o della nascitura, ma soprattutto per augurargli buona fortuna. L'imminente nascita del bebè, che riceve regali inutili e divertenti. Se avete voglia di organizzare un party personalizzato con Pisano Music TV, siamo a vostra completa disposizione. Quando organizzare un Baby Shower? Il Baby Shower, va organizzato prima della nascita del bambino, ma senza arrivare al nono mese. Quando la mamma comincerà ad essere stanca e affaticata e sarà alle prese con tante cose a cui pensare in vista del parto. L'ideale è organizzare il party nascita verso la fine del settimo mese. Il posto ideale per organizzare una delle nostre proiezioni per un evento Baby Shower, sarebbe a casa di chi organizza la festa, che dovrebbe essere a sorpresa e non solo in quanto, può essere organizzata comunque anche nella casa dei futuri genitori, che per l'occasione, possono decidere di festeggiare in qualsiasi altra location. Alcuni dei nostri clienti che hanno partecipato ad uno dei nostri Baby Shower, non avevano nessuna idea di cosa si trattasse. Ma sono rimasti talmente piacevolmente colpiti dall'atmosfera, divertendosi anche molto, che sono diventati la nostra migliore pubblicità. Per saperne di più, o per prenotare un evento con noi, potete contattarci con un messaggio su una delle nostre pagine, Pisano Music TV, o su Pisano Music Eventi. Grazie! Il Baby Shower Show, è un'esclusiva Pisano Music TV.